Bisogna tornare indietro nel tempo, non tanto magari, per incontrare i primi poster natalizi e poi pasquali firmati Giulio Camber. I primi erano privi di figure, si limitavano al slogan piuttosto forti dall'interpretazione piuttosto immediata. In municipio sedeva Roberto Cosolini, in regione si era appena insediata Deborah Serracchiani. Poi Camber ci ha preso evidentemente gusto e sono dunque nati quei manifesti che, diciamolo, in qualche modo scandiscono la vita politica triestina. Lo stile delle immagini, caricature che mascherano i personaggi al centro degli strali camberiani, è estremamente semplice e lascia capire, con pochi tratti, a chi si riferiscono. Gli occhi azzurri dell'elefante indicavano a Cosolini una iena oppure una strega con frangetta, era un riferimento più che chiaro alla Serracchiani. Trieste nei poster è accennata, a volte una principessa, a volte basta un palazzo per far capire di cosa si tratta. Da un punto di vista più prettamente artistico, l'operazione camberiana potrebbe essere definita pop, persino dada, se ci fermiamo sull'aspetto più anarchico di una comunicazione, che fatte le debite proporzioni ci si potrebbe spingere a collegare ad un certo avanguardismo sovietico, quello di alcuni poster cinematografici fatti di contrapposizioni di immagini e appunto di slogan piuttosto forti, però certamente meno spaventevoli, decisamente più leggeri. Qualche anno fa la svolta, l'attacco a quella che camber definisce la politica espansionistica cinese, con un poster piuttosto secco e scarno, seguito ad esempio da un manifesto molto più esplicito, dove l'uso di un colore rosso assai forte convoglia immediatamente lo sguardo sul drago predone. Quest'anno era prevedibile che il coronavirus giocasse un ruolo, e il poster è uno dei più semplici da interpretare. Nessun ve l'avevo detto, ma la possibilità di approfondire il messaggio c'è. Nonna Trieste, personaggio preso in prestito dalla cittadella, che difende il nipotino dal virus, che di fatto ha distrutto il Natale. Il manifesto mette assieme le due categorie più penalizzate dalla pandemia, ovvero gli anziani, costretti ad un isolamento forzato, e i più piccoli, privati in questo momento di uno dei periodi, non solo per loro, più belli dell'anno. Grazie a tutti.